Cari telespettatori, buonasera a tutti, qui è il vostro Armando Armandini, come sempre che occuperà lo spazio della critica del dopo film di prima serata. Ecco, questa sera abbiamo visto veramente un piccolo classico della storia del cinema, Godzilla, storia di un'orfanella. Allora, che cosa narra il film? Ricordiamolo, il film narra la storia di questa fanciulla che vaga senza famiglia, che vaga senza meta per il paese in cerca d'amore, ma a causa delle sue sgraziate fattezze viene scacciata da tutti e fatto oggetto di ludibrio e di ripulsa. È un film chiaramente di impronta berista, girato con attori non professionisti in un paesino del sud nel dialetto tipico locale. A tale proposito vi ricorderò che il titolo originale del film era Oscia che bestia, che peraltro è l'espressione ripetutamente pronunciata dagli abitanti del paese ad avvicinarsi della poveretta. Ecco, direi straordinaria la fotografia a colori in cui predominanti sono comunque il bianco e nero e questo togliere gli altri colori a mio parere riesce a dare più forza al dramma. Ecco, straordinaria anche direi la colonna sonora, tritonale formata da questo tritone di tre note e queste tre note, tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar momento in cui la piccola Godzilla tenta un approccio dialettico con i paesani, con la popolazione, ma purtroppo afflitta da una devastante alitosi dovuta ai forzati digiuni, viene da tutti respinta, se non proprio scacciata via in malo modo, ecco come abbiamo visto. Bene, io termino qua, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi do appuntamento la prossima settimana sempre su questa rete, il prossimo film che vedremo in prima serata si intitola Il piccolo Frankenstein, vi saluto, rimanete con noi, arrivederci da Armando Armandini.